Grazie per la visione! Ma chi te l'ha regalato? La mia mamma! Sei proprio una bella bambina! Grazie! Fai un giro su te stessa! Benissimo! Mi fai anche un bel sorriso? Un po' di più? Bellissima! Vieni qua che ti do una cosa! Torna pure lì! Hai già capito cos'è? È una parrucca! Vediamo! Vediamo come stai! No, non ti dona molto la parrucca! Toglila, toglila! Buttala per terra! Toglila! Ti piacciono le caramelle? Sì! Vieni qua che te ne do una!